In occasione delle prossime elezioni regionali, i giovani imprenditori di Pescara e Chieti hanno incontrato questa mattina il candidato presidente alla regione Marco Marsilio per condividere alcune linee programmatiche per lo sviluppo e il rilancio economico del territorio. Abbiamo incontrato per primo il senatore Marsilio al quale abbiamo chiesto le intenzioni della coalizione che lui guida rispetto al programma e segnatamente rispetto alla politica industriale che è la cosa che più ci interessa. Noi abbiamo rappresentato i problemi del nostro settore, abbiamo chiesto che vi sia una sburocratizzazione, abbiamo chiesto che ci sia un impiego importante dei fondi europei, insomma è stata una chiacchierata di confronto rispetto al programma. Abbiamo affrontato poi il tema della ricostruzione, in particolare POS Sisma 2016 perché nell'area del Terramano vi è una necessità di impiego di risorse per far sì che si proceda velocemente al ritorno in qualche modo alla normalità. La sua coalizione intende sfruttare al massimo i fondi europei, intende far sì che vi sia un'attività di sburocratizzazione, insomma ha risposto positivamente alle nostre sollecitazioni.